Grazie a tutti. 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 Buona, buona, buona. Buona, buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 bu Mezzio! 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 Niente mani! Mezzio! 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 Mezz! Bruno Bonna! Perdino Bonna! Che c'è adesso? Mezzio! 2 minuti! 2 minuti alla fine! Tush, Tush, Tush! Vola! 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 Attacca Caldo! Engagement! Ma apri dietro, capri! Ma parca, ma supportavo dietro! Ecco la prova! Attacca! Sono il fuori gioco! Attacca! Sono il fuori gioco! Bravo! Assassini! Attacca! Guarda! Sì, ma vogliamo presto questa banda? Sì, ma vogliamo presto? 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 Sì, ma vogliamo presto?